Salvare due razze equine di grande pregio, il cavallo persano e quello salernitano, un tempo allevati per le esigenze della cavalleria militare. È stato lo scopo della collaborazione tra l'Università degli Studi di Teramo e il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, nell'ambito di un accordo quadro che ha dato vita ad una serie di attività di collaborazione nei settori delle scienze forensi e veterinari e delle bioscienze, biotecnologie e scienze degli alimenti, della progettazione europea e degli studi internazionali. L'Università non può e non deve fare solo didattica e formazione, solo ricerca di base applicata, ma deve offrire servizio sia nei territori in cui insisti che sia in territori nazionali e internazionali. Senza una facoltà di veterinari e soprattutto senza la facoltà di Teramo per la professionalità, per l'espertise, per il know-how che loro hanno. Non avremmo potuto fare forse la metà delle cose che facciamo. In primis faccio l'esempio più gladante che quello della fecondazione assistita. La città di Teramo con le esigenze operative delle parti dell'Arma dei Carabinieri penso che sia uno strumento, una modalità operativa vincente, perché solo così si riesce a restare al passo con i tempi e dal punto di vista operativo. Le attività di assistenza e monitoraggio della riproduzione delle razze equine si sono svolte presso la torre di Feudozzo, tra Abruzzo e Molise, nei pressi del comune di San Pietro Avellana. Tutta la parte relativa alla riproduzione medicalmente assistita è fatta dal nostro servizio di riproduzione dei grandi animali della Facoltà di Medicina Veterinaria che prevede il monitoraggio di quello che è il ciclo estrale, l'inseminazione strumentale, le ecografie sia di gravidanza precoce che il monitoraggio della gravidanza nel percorso della sua normale patologica gestazione. Ma il valore aggiunto è che queste attività sono svolte in compresenza con i nostri studenti. Nell'ottica della Convenzione è stata anche inserita una lezione tecnico-pratica di handling del cavallo, di approccio al cavallo presso il IV Reggimento Carabinieri a Cavallo attraverso il supporto degli ufficiali veterinari e dei sottufficiali e carabinieri cavalieri.